Negra Messa è in pericolo. Solo un uomo può salvarla dal disastro. Red Rover presenta La modo più ritardata mai creata sul suolo italico. Tu su chi cazzi? Ma anche no! Ma anche no! Ma anche no! La cosa più che le faccio è in pericolo! Ha! 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 mezza vita un'italica modificazione in arrivo sulle peggiori piattaforme